Via libera alla seconda fase del progetto di recupero del Teatro Romano di Teramo. Nella giornata di ieri è stato firmato l'accordo tra il Comune e la cordata di tre imprese che avranno l'incarico di progettare e realizzare l'opera da 7,7 milioni di euro. Fondi ottenuti tramite il contratto interistituzionale di sviluppo delle aree del sisma aggiunti ai 4 milioni del Ministero dei Beni Culturali, Regione e Fondazione Tercas. Sì, con la firma del contratto di fatto si è chiusa la parte amministrativa. La firma del contratto che apre alla fase esecutiva, verrà redatto il progetto esecutivo intesa con la sovrintendenza e l'avvio del percorso di recupero funzionale del Teatro Romano in un momento epocale perché dopo decenni di attesa da parte della nostra città con annunci che si sono ripetuti, in questi anni noi siamo riusciti a mettere in atto la progettazione, tutta la progettazione da quella preliminare fino a quella definitiva. Abbiamo intercettato le risorse complessivamente oltre 11 milioni e 7, in particolare a valere sul CIS e oggi finalmente la nostra città con l'avvio del percorso dei lavori vede il recupero di uno spazio che sarà ovviamente un riferimento culturale non soltanto di Teramo Città Capologo ma dell'intero territorio regionale. Nel giro di tre anni sarà allestita una arena da 600 posti che nascerà sui resti del Foro Imperiale dopo la demolizione di Palazzo Adamoli e Casa Salvoni e sarà destinata agli spettacoli. Sì, lo spazio appunto per la rifunzionizzazione di circa 600 posti sarà un teatro destinato a tante tipologie di spettacoli, in pieno centro storico, un'area peraltro integralmente riqualificata con il Teatro Romano, il Mercato Coperto, il cui cantiere partirà proprio subito dopo le feste, il Braga e quindi Teramo ritrova uno spazio fondamentale, devo ringraziare tutte le associazioni che hanno lavorato in questi anni, penso in particolare a Teramo Nostra, il lavoro con la sovrintendenza, il commissario Legnini che con il CIS ha avviato un percorso, il CIS Cratero, un percorso di completamento del finanziamento dell'intervento del teatro, quindi una luce che passa per la valorizzazione culturale di Teramo Città Capoluogo.